Incidente nel pomeriggio di martedì 13 settembre poco prima delle 13 in via Fabria all'incrocio con via De Gasperi a Rivalolo Canavese a scontrarsi una Fiat 500 condotta da una pensionata e una motocicletta Fantic 125 con sopra una coppia di giovani. L'impatto è stato violento tanto che il giovane centauro, un diciannovenne, è stato sbalzato sul parabrezza della vettura mandandolo in frontumi ed entrando praticamente nel veicolo. Anche la ragazza che era con lui è stata sbalzata a terra. Sul posto sono intervenute due ambulanze della Croce Rossa di Rivalolo e di Castellamonte e la polizia locale di Rivalolo. Il giovane, subito soccorso dopo essere stato stabilizzato, è stato trasportato con l'elicottero del 118 all'ospedale CTO di Torino. La ragazza è stata portata all'ospedale di Cerie per controlli. Apparentemente ha riportato solo qualche contusione, illesa la donna alla guida dell'auto. Il tratto è stato chiuso il tempo necessario per permettere l'operazione in soccorso e rimozione. La dinamica del sinistro è al valio della polizia locale.